Eccoci qua, prepariamo anche la seconda pizza, la allarghiamo un po', mi raccomando, attenzione al cornicione, tenetelo sempre alto che dopo vedete che sviluppa bene, ecco, come prima pomodoro, pelati, sapete bene tutto, ecco qua, un po', la treccia, molla, che bella, ok, andiamo con il basilico, quello molto buono e un bel po' di parmigiano o grana, come volete, se vi piace di più uno o l'altro, adesso, su, colpo secco, allarghiamo, ecco, passettino qua, giro d'olio, temperatura 450 gradi, pronti, ecco, e voilà, e adesso attendiamo lo sviluppo.